Ciao a tutti e compagnie, qui è il vostro Kills che vi parla, bentornati con un nuovo video qua su Star Wars Battlefront 2 Oggi ragazzi voglio fare insieme a voi un live gameplay su Galactic Assault, la nuova modalità che va a sostituire Assalto Caminatore di Star Wars Battlefront 1 Per l'appunto voglio farvi vedere una partita giocata in diretta, spiegandovi passo passo quello che andremo a fare E niente, io adesso vado a cercare una partita appena iniziata e noi ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi, eccoci in partita, è appena iniziato come infatti ho visto, abbiamo gente everywhere Aiaaa Guarda te, devo spawnare davanti a uno che sta cercando di farci spawn kill Salve Ok avanziamo insieme ai nostri colleghi, ho visto uno tipo qua, aspettate, dov'è, 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 qua Salve Prendiamo uno qua davanti a noi Salve No beccati questo, così mi pare Attualmente i cloni devono prendere dei specie di RPG ultrapotenti per disattivare lo scudo dell'MTT Per poter infliggergli dei danni Dall'altra parte noi dobbiamo cercare di impedire questa cosa uccidendo i tizi che noi ci danno come bersaglio, no? Avendo fatto 2500 punti mi sono preso una truppa elite, il drone sto qua grigio che non mi ricordo come si chiama, però è fighissimo E adesso ci facciamo valere, salve A bello di mamma A bello di mamma che pensi di fare? Aiaaa Ma Cicchino, stiamo un po' fermo per favore Non siamo qui A fare i cavoli nostri Aiaiaiaiai, nasconditi, nasconditi, nasconditi Volevi uccidermi Quel missile lì te lo becchi proprio nei denti Te lo becchi guarda Avanziamo salve 7 kill player streak Avanziamo avanziamo Qua ce n'è uno Venga qua venga qui lei Sono io che la devo picchiare Signore venga Ok ok ci abbiamo qua il missile Lo dobbiamo difendere ad ogni costo prima che sparino Perché sennò sono cazzi per noi Te muori Te muori 12 kill streak signori Che cavolo di partita mi sto combinando in diretta Pensavo di fare schifo perché ovviamente ogni volta Quando io registro io mi va di sfiga Invece mi sta riuscendo a perdita molto molto carina Te ci muori Via 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 No 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 C'ho 3 di vita Signori guardate che spariamo alla porta Guardate che figata Boboom Bellissimo questa scena Ogni volta mi piace proprio buttarmi in mezzo per vederla Perché è fatta da dio È veramente figa Ok clear the area Adesso dobbiamo pushare e aprire il portone principale per entrare Salve 15 player kill streak OMG che figata che stavo facendo in questa partita Salve Mi è capitato davanti Non so cosa volesse fare Però ok No quello mi è scappato Mannaggia 17 kill streak No non ci credo Mi sono succeduto col bazooka No Ho sbagliato la cosa più semplice da fare Ovvero il bazooka Ho sbagliato No beccati questo e non roberò male te Poi io avanzo raga Vabbè fallo te fallo te fallo te Vai vai Io lo proteggo Oddio Ray No 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 Ray Sono tuo amico Io sono tuo amico Ray Ragazzi 6800 punti Ho fatto in una sola botta Ok ho preso un'altra che la salite Perché sapete con 6800 punti C'ho tutto quello che voglio Ho preso il secondo d'orene quello grigio Quello che ha a disposizione un lanciamissili La vita maggiorata E non mi ricordo cos'altro Perché non me lo ricordo mai Vieni qua te Vai vai ti difendo io bro Ok fatto Ucciso Oddio ci abbiamo Jan Sol e Ray qua davanti Ok sono riuscita a prendermi l'ennesima classe elite Questa partita sarà solo classe elite Perché cioè sto facendo un botto di punti Oddio lì c'è Ray Salve 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 Beccate questo missile Ok Mamma mia 4 kill consecutive signori No ho sbagliato la ricarica Mannaggia Clear 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 Venite venite Oddio no 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 Non è clear per niente Non è clear per niente Non è clear per niente Mannaggia La cosa bella è che se l'hai presa solo con me sta qua Cosa io avrò mai fatto di male a questa Ray Dobbiamo riuscire a conquistare l'ultima zona Che è questa qua centrale Con a destra e a sinistra lo spawn nemico Ed è molto difficile Però a noi ci mancano solamente due ticket E noi siamo qui in set A conquistare questo territorio Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo signori Io però sto lanciando tutto quello che posso È tesissimo questa partita ragazzi veramente Avanti tutti dentro my friend Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Sta arrivando Presto il jet pack a posto Sì Mamma mia Che bella partita è stata questa Mamma mia Davvero bravissimo il mio team È stato davvero bravissimo Siamo durati più di 5 minuti in overtime Per conquistare l'ultimo settore Mamma mia Ragazzi abbiamo fatto 34 kill Terzi in classifica Mamma mia che ottimo risultato Mi sono portato a casa Più o meno penso di aver fatto massimo 10 morti Non credo di averne fatte più di quelle E siccome che penso che questo video stia durando poco Adesso facciamo un'altra partita Dunque ragazzi ci vediamo tra pochissimo in partita Ok ragazzi legaci in partita Siamo di nuovo con i droni sfiga vuole Ho deciso di utilizzare un po' lo specialista Che sarebbe il cecchino di questo titolo Aspetta qua So io cosa fare Attiviamo la nostra abilità speciale Salve Uno Due Via te No 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 Dai ragazzi È one shot È one shot Se ti becchi questo Quattro Mamma mia Mamma mia Incredibile signori Mamma mia 7 killstreak Russian snipers Qui c'è la nostra ottava forse Volevi Subito 2600 punti Buono 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 Scusatemi se veramente qua stavo un attimo a zitto Ma capitemi Quando succedono queste cose qua Io vado in pappa Cioè vado ultra concentrato Cercando di fare la migliore place della mia vita Poi giustamente mi vieno a dire No dai iniziamo a smirare come un pirla no Dovete capire che lo specialista è la mia classe preferita di questo titolo È davvero OP Volevi sparare pure te l'MT eh Oh Mamma mia signori In wallbang Al prato fiorito qua davanti a me Vedo gente Boom boom Headshot bitch T'ha visto Dai esci Boom 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 E signori e signori Possiamo utilizzare Darth Maul Guardalo qua quanto sei bello te Oddio no Ma ben devo trovare proprio davanti a lei Oh Insta shottata Madonna signori Abbiamo devastato questa raid Oh oh salve Ok Salve Guardali quello Guardali quello Guarda No non ci arrivo con la spada Tocca a saltare Vieni qua Salve Salve Oh cavolo Erano i tank quelli Ok però l'ho uccisi Vieni qua Jan Solo Vieni qua Jan Solo Ti faccio conoscere Oh cavolo No sono morto Ero in tre davanti a me Però Jan Solo e Rey Ce li siamo uccisi Signori eh Eh lì lo ammetto Ho sbagliato io Mi sono lasciato prendere Dall'emozione Ho lasciato in mezzo ai nemici Mi sono morto Prendete con pirla Comunque ho cambiato classe Adesso sono con Livi Che è Questo tank Che col mitraione Pesante Cerchiamo di fare Qualcosina per il nostro team Un po' di supporto Permesso Permesso Hello Ok andiamo a aiutare qua I nostri colleghi Stiamo arrivando Stiamo arrivando Bombardiamo lì Perché c'è Jan Solo Oh oh Due kill Vai 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 Ti copriamo noi bro Ok Primo settore completato Dobbiamo fare adesso Quello di sinistra Io stavo dando fuoco Di copertura qua In mio team Dai provate a uscire In mezzo al mio minigun Stronzi Allora passiamo lateralmente Oh Oh bella questa kill Perfetto Dai andiamo Toxic banana Ma come cazzo ti chiami Toxic banana Aspetta Minigun Fuoco di copertura Da dietro Perché dovete capire Che appunto L'ultimo settore È davvero difficile Proprio perché A destra e sinistra Ci stanno i respawn avversari Penso che ce la facciamo Perché il mio team Sembra essere davvero bravo Occhio Occhio Bravissimo Eliminated Vai noi ci mettiamo qua A fare fuoco di copertura lì Eeeh Volevi uscire te Ti attacchi Ti attacchi lì te Oh c'erei C'erei Ok abbiamo dato Ottimo fuoco di copertura E abbiamo vinto Anche questa partita Signori signori Mamma mia Incredibile E questa seconda partita L'abbiamo conclusa Secondi con 28 kill Niente male dai Comunque ragazzi Questo video finisce qua Spero tanto che vi sia piaciuto In tal caso Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un commento Dicetemi voi Cosa ne pensate Di questa nuova modalità Galactic Assault Iscrivetevi al canale Se ancora non lo siete Passate dalla pagina Facebook Dal canale di Telegram Dal canale di Twitch Che trovate tutto sotto In descrizione Io come al solito Vi ringrazio di cuore Per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre by Bad Company Italy E noi ci vediamo E noi ci vediamo